Marca 2018, siamo ora a Bologna, siamo in compagnia del signor Paolo Cipriani, Sales Manager di LPR. Ci può raccontare di cosa si occupa la vostra azienda? La nostra azienda è uno dei principali noleggiatori di pallet a livello europeo. Siamo una sua età francese, presente sul mercato da 25 anni e presente sul mercato italiano da 7 anni circa. Gestiamo circa 150 clienti su questo mercato e la caratteristica di questo servizio è che effettuiamo un servizio di noleggio pallet che viene prevalentemente utilizzato da parte di quelle società che hanno commercializzazione dei loro prodotti verso le grandi distribuzioni, sia sul mercato italiano che sul mercato europeo. A che tipologia di clienti vi rivolgete? Il cliente tipo di un'azienda come LPR, come dicevo poc'anzi, è un cliente che opera nel settore della grande distribuzione. Società che gestiscono movimentazioni consistenti dal punto di vista della numerica dei pallet e che hanno delle esigenze di qualità dal punto di vista dell'attrezzatura consistenti. Le aziende che utilizzano questo tipo di pallet sono anche aziende che hanno magazzini automatici o che hanno commercializzazioni significative verso mercati domestici ed esteri. Ci può dire come funziona il vostro servizio? Sì, certo. Sulla base di quelle che sono le esigenze specifiche di un nostro cliente noi effettuiamo direttamente presso la loro azienda delle consegne per carichi completi di quelli che sono i nostri pallet. Il cliente palletizza le sue merci, provvede allo stoccaggio delle stesse, le spedisce verso la catena della grande distribuzione. Ho il loro cliente finale, dà comunicazione attraverso un portale che viene da parte nostra messo a disposizione a favore del cliente, dove i pallet si troveranno. A questo punto l'organizzazione di LPR provvede ad effettuare il ritiro del pallet presso il cedi della grande distribuzione nel momento in cui questo pallet sarà vuoto. Una volta raccolto da parte della nostra organizzazione viene portato in uno dei nostri depositi, abbiamo 110 depositi in Europa, dove il pallet verrà selezionato, riparato se necessario e conseguentemente rimesso sul mercato ad un altro cliente che ne farà specifica richiesta. Se dovesse individuare il vostro valore aggiunto, quale sarebbe? LPR ha una sua età che fa, del suo punto di forza, la sua grande flessibilità del servizio. Oltre ad essere flessibili abbiamo una grande trasparenza dal punto di vista della gestione amministrativa e soprattutto quello che ci ha caratterizzato in questi anni, sia in Italia che in Europa, è il fatto che molti nostri clienti che hanno iniziato a testare il servizio con volumi molto ridotti stanno crescendo in maniera significativa. Questo per noi è un motivo d'orgoglio da un lato e al tempo stesso è ciò che dimostra e attesta la bontà del servizio e la capacità di gestire le esigenze dei nostri clienti in qualunque situazione.